Il 5 maggio il bollettino regionale sull'epidemia di coronavirus riportava circa 1450 pazienti ricoverati nei reparti covid degli ospedali toscani e di questi 230 si trovavano in terapia intensiva. A un mese di distanza ce ne sono mille in meno. Oggi i posti letto covid occupati sono in totale 407 di cui 96 di terapia intensiva. E' questo il dato che meglio racconta un'emergenza ancora non terminata ma certamente riportata a un livello di più facile gestione per la sanità toscana impegnata nella battaglia al virus. Un conflitto nel quale l'arma più potente sono i vaccini. In questo fine settimana la regione ha concluso l'apertura delle prenotazioni ai trentenni e da lunedì passerà la fascia d'età che va da 29 a 16 anni. Da questo sabato inoltre attiva sul portale prenota vaccino la finestra dedicata ai circa 30.000 studenti che devono affrontare l'esame di maturità e che godranno di una corsia preferenziale. E mentre i vaccinati aumentano i numeri del contagio scendono. La vaccinazione va avanti, va avanti spedita bene e contemporaneamente diminuisce quello che ci ha condizionato negli ultimi 15 mesi. Pensate che in sei giorni non si arriva a mille contagiati. La Toscana si rivela in questi giorni una delle regioni nelle quali possiamo ripartire con il turismo, con le nostre attività relazionali. I nuovi positivi scoperti nelle ultime 24 ore sono 154 con un'età media di 36 anni e rappresentano il 2,6% dei soggetti sottoposti a primo tampone. In totale i test analizzati sono oltre 18.000. La provincia di Firenze ancora una volta fa segnare il maggiore incremento dei nuovi contagiati, sono 38, seguita da quelle di Pisa, 23 e Prato, 20. Mentre in provincia di Massacarrara se ne conta uno soltanto. Attualmente sono 6.147 malati di Covid in Toscana. Oltre ai ricoverati ci sono 5.740 contagiati in isolamento a casa, asintomatici o con sintomi lievi. Mentre le persone isolate per aver avuto contatti con dei positivi sono 16.098. Il bilancio dei decessi parla di altre 8 persone che hanno perso la vita, 3 uomini e 5 donne con un'età media di 79 anni che portano a 6.749 il totale dei morti dall'inizio dell'emergenza sanitaria.